Tutto Orecchi, un podcast dell'Istituto Svizzero Media e Ragazzi, a cura di Letizia Bolzani. È bello pensarvi all'ascolto in questa puntata che apre il nuovo anno. Oggi vi portiamo in mondi fantastici, in onore di Tolkien, J.R.R. Tolkien, il celebre autore del Signore degli Anelli, non è stato solo scrittore, ma anche professore a Oxford, linguista, filologo, oltre che persona di grande umanità. Queste sue tre dimensioni, scrittore, professore, uomo, anzi uomo, professore, autore, sono raccontate in una mostra a Roma alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea. Promossa dal Ministero Italiano della Cultura con la collaborazione dell'Università di Oxford, è stata inaugurata nello scorso mese di novembre, perché nel 2023 si ricordavano i 50 anni dalla scomparsa di Tolkien e anche i 50 anni dalla prima edizione italiana de Lo Hobbit. La mostra sarà aperta fino all'11 febbraio, ma poi si sposterà in altre città italiane, tra cui Torino alla reggia di Venaria, nel novembre di quest'anno 2024. Abbiamo incontrato a Roma il curatore Oronzo Cilli. L'idea è quella che il visitatore, che poi è anche un lettore, possa portare via con sé l'idea di un uomo che non è a una sola dimensione, ma è un uomo capace di aprire altre porte. La grandezza, per quanto mi riguarda di Tolkien, è che non è un punto di arrivo nella letteratura, ma è probabilmente un punto di partenza. È un punto di partenza verso la letteratura nordica, la letteratura epica, la letteratura dei miti, la grande letteratura del nord, ma non solo, anche di Dante. Tolkien era un dantista, lo raccontiamo nella mostra. L'idea è quella che si possa conoscere un uomo che ha ancora tanto da dire, sia come autore, per le sue opere, per quelle che magari non si conoscono, ma anche come professore e soprattutto come uomo che ha voluto consacrare la sua vita a non solo la famiglia, alla fede, ma anche alla grande letteratura. Quali erano i libri per bambini che lui amava? Tolkien era un grande lettore, era un grande lettore non solo dei libri del suo ruolo di professore. Tolkien leggiva, amava molto Beatrix Potter, amava molto Fratelli Grimm, amava Andrew Lang, amava George MacDonald, William Morris, amava gli Snerg. C'è una citazione dove lui dice che quel libro lo aveva colpito, lo aveva anche fatto leggere ai suoi figli. Ad esempio c'era un'altra serie che lui amava molto e che leggeva a sua nipote, era la storia del trenino Thomas, che poi è anche un famoso cartone animato, amato dai bambini, e lui amava leggere le storie a sua nipote, a Joanna. Era un grande lettore, aveva davvero spaziava, va dai libri per ragazzi ai libri accademici, ma non solo, ma va anche molto ad esempio Agatacristi, Gialli, Posizieschi, La Fantascienza, leggeva Asimov, leggeva Renaud, leggeva tantissimi per Rowe, insomma era un grande lettore e vi posso garantire che alcune delle sue letture le ritroviamo non citate in maniera esplicita, però riferimenti, ecco nelle sue opere i buoni osservatori e i buoni ricercatori possono ritrovarle. Abbiamo sentito alcuni titoli tra i libri per l'infanzia preferiti da Tolkien. Tra essi sicuramente troneggia Il meraviglioso mondo degli Snerg, romanzo del 1927 di Edward Augustine Wyke Smith, ingegnere minerario oltre che scrittore e viaggiatore dalla vita avventurosa. Tolkien amò questo romanzo, come lui stesso ebbe a dichiarare in alcune lettere e nel saggio sulle fiabe. Vorrei dichiarare il mio amore e quello dei miei figli per il meraviglioso mondo degli Snerg e per l'indimenticabile personaggio di Gorbo, il miglior compagno di viaggio che si possa desiderare. Gorbo è uno Snerg, ossia un appartenente a un popolo di creature gioviali e dalla bassa statura, che vivono in pacifiche e festose comunità a contatto con la natura, a volte sono un po' sbadati ma sono coraggiosi. Gorbo non può non far venire in mente un Hobbit, a cui Tolkien dedicò il suo romanzo omonimo che sarebbe uscito dieci anni dopo gli Snerg, ossia nel 1937, ma venne scritto già nel 1932. Lo stesso Tolkien, in una lettera, definì il romanzo una fonte inconscia per lo Hobbit. Protagonisti di Il meraviglioso mondo degli Snerg sono, oltre allo Snerg Gorbo, due bambini fuggiti da un orfanotrofio che se la dovranno vedere nella terra fantastica in cui sono arrivati varcando una sorta di portale, se la dovranno vedere con streghe, mostri, malvaggi vari, ma anche con adorabili aiutanti, in un'avventura non esente da umorismo e saggezza. La casa editrice britannica Chicken House scelse di ripubblicarlo nel 2020, facendone però un adattamento che potesse risultare più immediato per i bambini di oggi. Così scrive l'editore sul verso del frontespizio. La storia mi è piaciuta moltissimo, solo che in alcuni punti mi è parsa un po' datata. Per questo la meravigliosa Veronica Costanteli l'ha reinventata per i giovani lettori di oggi. Il risultato è pieno di saggezza, humor, incantesimi e avventure. Ci sono orsi alla cannella, foreste magiche, una ciurma sgangherata e ovviamente gli Snerg. Creature con le sembianze di umani in miniatura, dotati di coraggio da vendere e anche di un pizzico di follia. Sono sicuro che lo amerete proprio come Tolkien e i suoi figli. Questo è quanto abbiamo sentito dall'editore inglese. Veronica Costanteli, la adattatrice, è una scrittrice britannica nota soprattutto per la fattoria degli animali fantastici, romanzo uscito in italiano da Feltrinelli Kids. Così come da Feltrinelli Kids è uscita quest'anno in italiano la sua riscrittura del meraviglioso mondo degli Snerg, nella traduzione di Elisa Puricelli Guerra. Elisa Puricelli Guerra è lei stessa una nota scrittrice per ragazzi. Le abbiamo chiesto cosa le è piaciuto del mondo degli Snerg. Allora, a me è piaciuto il sapore classico, un po' ripreso appunto da questa autrice Veronica Costanteli, da un super classico di questo signore White Smith, che mi ha molto colpito per la sua vita personale, nel senso che era un ingegnere ma che ha viaggiato in tutto il mondo, ha fatto il cowboy, e addirittura ha salvato la moglie dalla rivoluzione messicana e poi è stato praticamente in tutto il mondo e poi si è messo a scrivere libri per ragazzi che uno non se lo immagina. Ma forse tutti questi paesi che aveva visitato lo hanno ispirato a creare mondi fantastici. Poi io da maniacalmente amante della tradizione da Lewis Carroll, da Alice nel Paese dei Meraviglii, quando si tratta non solo di mondi fantastici che questo libro ci riporta, anche pensando a Leone e la strega all'armadio di Lewis, ma anche la passione inglese per i giochi di parole, per l'uso di aggettivi all'iterazione, i doppi sensi o l'uso delle parole molto evocative con cui i bambini si possono immaginare veramente tutte queste creature. E poi ci sono tutti e proprio gli elementi, dagli orfani che vivono nell'istituto, dove ci sono delle regole severe, alle porte che non dovrebbero essere aperte, agli orsi di cannella, a questi esseri poi questi snerg. Vogliamo un po' parlare di questi snerg. Sì, parliamo un po' di questi snerg che ricordano molto un piccolo popolo tolkeniano. Gli Hobbit, infatti anche solo il nome Gorbo, che è uno snerg protagonista diciamo così, è un po' anche con Bilbo, Gorbo-Bilbo un po', c'è anche qua una alliterazione. Quindi Tolkien stesso dichiarò che lui lo leggeva ai suoi bambini, nei bambini a cui scriveva le lettere di Natale, con cui aveva un rapporto bello dal punto di vista dei libri, delle storie in cui li coinvolgeva. E parla proprio di Gorbo e della sua gorbitudine, che forse ha messo un po' negli Hobbit, perché dopo tutto gli snerg hanno delle sembianze umane, però sono piccolotti, un po' rotondetti, sono pasticcioni anche sempre però con un gran cuore animati da buone intenzioni e finiscono in grandi disastri e sono anche amanti della buona tavola, perché qua il cibo è molto importante. Sì, il cibo è importante, gli snerg lo sanno apprezzare, ci sono deliziose specialità quasi ad ogni pagina. Ma tu dicevi prima che gli snerg hanno un gran cuore, un gran cuore credo non solo nel senso di bontà, ma anche nel senso di coraggio, perché Gorbo è coraggioso. Senza esserne consapevole, ma in realtà ne passa di tutti i colori e poi con l'aiuto ovviamente ci sono degli accompagnatori, che sono Pip e Flora, che sono i tipici orfani che vivono appunto in questo istituto, mai adesso ne sembra tutto così, per orfani orbati dei genitori per cause accidentali. Genitori peraltro non certo esemplari, perché il padre di Pip, che faceva lavorare il figlio nel circo, lo sfruttava e lo trattava malissimo. E la madre di Flora, bambina dell'alta società, a cui al contrario di Pip non mancavano certo le cose materiali, era una mamma assente, totalmente disinteressata alla figlia, al punto di arrivare a dirle stai zitta, perché le dava fastidio sentirla parlare. E quindi Flora da lì non parlò più. Ma tu usi nella tua traduzione un termine interessante per definire gli orfani. Usi l'aggettivo orbati, orbati dei genitori. Come mai? Perché c'è un grandissimo gioco sui suoni e sulle alliterazioni, sulle assonanze e su queste lunghe descrizioni dei posti o delle persone, perché poi arriverà questa regina degli Snerg, che viene definita magnificissima, maestà, suprema, superba, eccetera. E io ho sempre, ho cercato questo orbati, è venuto perché volevo fare l'assonanza con orfani rimanendo nella linea dell'inglese che usava una parola altissonante, ma che in realtà aveva un altro significato, ed era superplus. Quindi forse in accezione più di non necessari, indesiderati, ma il tuo orbati funziona altrettanto bene, mi sembra. Sempre a proposito dell'importanza delle parole, credo che sia proprio un tema centrale del romanzo, tant'è vero che quando la piccola Flora chiede alla regina degli Snerg come si fa a chiudere una porta che non si vede, tra l'altro anche il tema del portale magico, della soglia è centrale, insieme a quello delle parole, la regina risponde con le parole. Le parole sono chiavi potenti. Del resto sono proprio gli appellativi con cui Gorbo si rivolge alla regina ad essere un divertente esempio di iperboliche invenzioni linguistiche. Ave o più multidimensionale delle maestà, maestà multidirezionale, vostra maestositudine, la più marmellatosa e mega fantasmagorica di tutte le maestà. Perché anche nell'inglese c'erano queste parole che adesso vorrei poter ritrovare e anche questa cosa di multidirezionale marmellatosa e l'inglese ha questa bellezza che io adoro di poter veramente anche creare dei neologismi nella letteratura, soprattutto nella letteratura per ragazzi. Io ho cercato di stare sempre sul gioco delle assonanze e del richiamo del suono, della musicalità, anche perché questi snerg poi loro cantano, fanno delle feste, hanno sempre un motivo per fare una festa. E ci sono anche, per esempio, i nomi divertentissimi sono dei vari servitori, insomma, personale del palazzo della regina, c'è quello che si occupa dei barattoli di marmellata, perché appunto la marmellata è molto importante, quello che si occupa degli struzzi regali, eccetera. Ognuno ha un titolo molto altisonante. Gli stessi snerg poi si inventano quando fanno queste feste per motivi futilissimi o per il compleanno della regina che compie 373 anni e un quarto, tre quarti. Quindi Gorbo ne ha combinata una che è stato bandito perché è caduto nella torta. E il povero Gorbo riceve addirittura un biglietto di non invito alla festa. Cito. La regina a merci degli snerg e altri sudditi molto cordialmente non invita Gorbo di casa cadente sul faggio faticente al banchetto di stanotte. Solito posto, solita ora, non venire. Quindi non venire alla fine. E se no, questi diglietti tra l'altro sono fatti su dei biscotti ricoperti di glassa che infatti alla fine viene mandato anche a Pippe Flora e quindi insomma mi sono divertita a cercare. Però mi ricordo che è stata la parte più, in un certo senso, complessa però anche più creativa della traduzione. In questo libro c'è molto cibo, molta giovialità, molta gioia di vivere ma ci sono anche squarci di malinconia, di paura e ci sono dei cattivi. C'è anche una strega cattiva, un orco che però è vegetariano per via di un sandesimo e anche lui sogna cibo a tutti e poi c'è tutta questa crema pasticcera che lo consola a un certo punto. Elisa, tu ami la letteratura fantastica inglese, ce l'hai detto prima, hai vissuto anche per un periodo a Londra. Nei tuoi romanzi troviamo storie in cui l'elemento fantastico è presente ma ne troviamo anche altre realistiche, anzi calate proprio nell'attualità più urgente come è il caso del tuo romanzo più recente Siamo la vostra voce, uscito da Einaudi Ragazzi e dedicato all'eroica battaglia delle giovani donne iraniane. Ecco, in chiusura ti chiederei di presentarcelo brevemente. È nato quasi contemporaneamente appunto l'anno scorso dopo la morte di Massa Amini per mano della polizia morale perché non indossava l'ijab, questo velo che le donne devono indossare per legge in Iran. È stata una suggestione dell'editore. Mi sono sentita all'inizio un pochino così, da una parte inadeguata, dall'altra parte ero anche io molto coinvolta in quel momento in cui probabilmente sono uscite tantissime immagini, è uscito tantissimo anche se la censura era forte anche in Occidente sulla possibilità di un movimento iniziato dalle donne a cui poi si è unito un paese intero. Quindi come se sono negati i diritti delle donne c'è finalmente la consapevolezza che nessun diritto è acquisito, cioè nessuno può dirsi libero se le donne non sono libere. E quindi questa cosa mi ha portato a costruire poi quello che è un romanzo ma però immerso nella realtà perché come scrivo in esergo al libro alla fine siamo tutti coinvolti in quello che capita nel mondo. Abbiamo sempre pensato di vivere nel nostro piccolo ma in realtà è soprattutto quello che succede alle donne. E quindi racconto una storia con dei protagonisti miei ma immersa, siamo la vostra voce perché le voci che si sentono nel libro sono tutte quelle che ho raccolto da diversi canali e da diversi iraniani che ho così ascoltato e quindi ho voluto fare parte un pochino anch'io di questo movimento da donna. Abbiamo parlato di un romanzo fantastico e di un romanzo immerso nell'attualità più cocente. Spesso si tende ad opporre questi due generi o peggio a svalutare il fantastico ritenendolo superficiale o di pura evasione però io credo che entrambi aprano la mente dei giovani lettori e che anche il fantastico possa servire a immaginare nuove strade per rendere questo mondo un posto migliore. Questi mondi e queste letterature o distopiche o fantastiche possono essere un modo per entrare e poi per mettersi alla prova anche per pensare ma io cosa farei anche se sono uno sderg di poco coraggio e di grande gola però posso invece fare qualche cosa a quel livello. Sono una ragazzina iraniana però posso manifestare, posso far sentire la mia voce posso far sentirla a tutto il mondo ecco. Con Elisa Puricelli Guerra abbiamo parlato di due libri Il meraviglioso mondo degli snerg di Edward Augustine Wykesmith uscito ora da Feltrinelli nella riscrittura di Veronica Cossantelli e da Elisa Puricelli Guerra tradotto e di Siamo la vostra voce di cui Elisa Puricelli Guerra è autrice uscito anch'esso quest'anno da Einaudi Ragazzi. E adesso nella nostra vetrina mettiamo un altro libro stavolta dedicato a lettori più piccoli anch'esso ci porta in un bosco popolato di animali e creature fatate come elfi, troll, driadi meraviglioso dove l'umano non impera anzi non c'è proprio onorando quella che io credo essere una delle specificità della letteratura per l'infanzia quella di dare voce al non umano anche al non umano insomma Streghetta Nocciola si intitola questo libro un libro al tempo stesso rassicurante e gloriosamente selvatico come è stato definito dalla critica americana da cui è stato annoverato tra i migliori libri dell'anno appena trascorso esce ora in italiano da Il Castoro nella traduzione dei librai della libreria Radice Labirinto di Carpi che innamorati si di Streghetta Nocciola ben prima della sua pubblicazione in Italia lo hanno da tempo promosso e diffuso già in lingua originale l'autrice è Phoebe Wall scritto W-A-H-L artista, autrice e illustratrice americana le sue illustrazioni sono davvero bellissime dolci e forti al contempo com'è gentile e forte al contempo Streghetta Nocciola immagine femminile certamente non leziosa ma molto come dire vera se si può dire vera di una strega come fosse quell'amica presente non evanescente ma energicamente robustamente presente che tutti vorremmo avere le storie contenute in questo libro sono quattro una per stagione e in effetti il sottotitolo di Streghetta Nocciola è Un anno nella foresta quattro storie con l'ultima che in un certo senso riprende circolarmente la prima a primavera Streghetta Nocciola trova un uovo abbandonato se ne prende cura e fa nascere un gufo imparando però anche l'importanza di saper dire addio nella speranza di ritrovarsi un giorno in cito modo misterioso e improvviso come spesso accade con le creature selvatiche in estate Streghetta Nocciola sempre molto impegnata dopo qualche resistenza scopre il valore dell'ozio dello cito starsene seduta lì ad ascoltare e respirare in autunno risolve un mistero vivendo la bellezza della condivisione e dell'amicizia in inverno dopo essersi presa cura di tante creature viene sorpresa sulla strada di casa da una tempesta di neve ma sarà qualcun altro ora a prendersi cura di lei Febe Val Streghetta Nocciola il castoro da quattro anni le letture di questa puntata in omaggio alla letteratura anglosassone dei giochi di parola a cui accennavamo parlando del meraviglioso mondo degli snerg sono delle poesie di Richard Wilbur poeta statunitense vissuto tra il 1921 e il 2017 sono tratte dal volume Contrari Ancora Contrari e Qualche differenza che era uscito in italiano da Mondadori nel 2002 C'è più di un modo di avere ragione riguardo al contrario di Bianco rispondere Nero è molto ma molto banale perciò mi fa venire voglia di urlare e dire scusate in un uovo è il rosso il contrario di Bianco Qual è il contrario di Cuscino? La risposta mio caro bambino è Armadillo Non dire scemenze ti sento esclamare tuttavia se volessi appoggiare la testa su quello strano animale capiresti che dico il vero quello lì non è soffice ma duro dalla testa alla coda la creatura ha una corazza tutta scaglie e punte e inoltre non sta fermo un solo istante come fanno i cuscini sopra il letto ma si contorce salta e si dimena in caccia di formiche per la cena come vedi io ho ragione e tu hai torto se poi non sei d'accordo ti propongo una battaglia coi cuscini io direi che il contrario di aquilone è io io se per caso la stagione è ventosa il primo si fa alzare sulla sua corda perché possa andare su in cielo poi lo si tira giù senza esitare attenzione però si può impigliare invece lo io io cade all'ingiù e voi lo fate risalire su tirando destramente la sua corda sempre che quello voglia darvi corda